Guarin protegge la palla dall'attacco degli avversari e ne mantiene il controllo ha preso la mira, ha caricato il tiro e non ha lasciato scampo al portiere che gol Peppe una conclusione fantastica gli hanno lasciato troppo spazio e lui li ha puniti un gol che dimostra ancora una volta le eccezionali doti balistiche di questo giocatore un gol pazzesco Fabio gli hanno lasciato troppo spazio per tirare e lui li ha puniti ha calciato con forza e precisione chirurgica indovinando l'angolino un gol da Cine Deca gustiamoci questa rete da una prospettiva diversa